Ciao a tutti, dopo tutti questi mesi in cui Dario mi stressava per fare i soliti video parlando degli avversari, in realtà non mi trovo qua per parlare di qualcun altro, ma di parlare di me stesso e annunciare che purtroppo il prossimo anno non lavorerò più in questa bellissima città, in questa bellissima società, ma per motivi professionali e familiari tornerò a lavorare a casa, vicino casa e mi sembrava giusto con questo messaggio ringraziare tutti, ringraziare la città ovviamente dove mi sono trovato benissimo, ho trovato mia moglie, purtroppo, per fortuna ho trovato, mia figlia è nata qua, quindi il mio cuore rimarrà sempre qua e sarà sempre bello tornare, ringraziamenti ovviamente sono tanti, voglio parlare prima di tutto della famiglia Basciano, del Presidente Nicola che ho incontrato la scorsa settimana a Bologna, sono stati i primi a dirmi che il nostro legame va oltre l'aspetto professionale, ma è umano, quindi erano felici per me ed erano contenti e volevano sapere che andasse a fare qualcosa di meglio, o comunque vicino casa e vorrei appunto ringraziare i tifosi, tutte le famiglie perché io qua ho lavorato anche col settore giovanile, non solo come la prima squadra, ma negli ultimi anni, per me è stato importante lavorare con la città, le famiglie, i giocatori, vedere i ragazzi crescere, ringrazio tutti, Daniele come sapete è come un fratello, il mio testimone di nozze, è un amico e quindi non posso che augurare il bene a lui e di conseguenza a tutti e augurarvi tantissime vittorie, sperando appunto che questo sia veramente un arrivederci, come lo è stato Torino e sperando appunto che anche Trapani sia un arrivederci. Ciao a tutti!